Appena dato rigore, a me non piace sinceramente vincere così, abbiamo pure il ritorno di ciò cansello, a me non piace vincere con i rigori, però ce l'ha dato, ci stanno. Tutti i rigori che hanno dato ultimamente sono basta che tu allarvi il braccio, faccio il rigore, loro l'hanno vista più volte, noi abbiamo avuto solo quelli inquadratori Non mi piace vincere così, non è bello però, squadra mediocre, non voglio dare una colpa a nessuno, la Veronica di Lausano e l'Anatoro di Veronica Mi ha fatto il cucchiaio! Cucchiaio di carti, il rigore ci stava, però non mi piace vincere così, no la seconda che segnavo il cucchiaio, non è la prima! Comunque ragazzi, Icardi ha segnato col cucchiaio, entra Perisic e lì, scherzo scherzo, Perisic doveva venduto lo stesso, ci andiamo a fine partita! Comunque ragazzi! Grazie a tutti.